Prova a riconoscere l'odore della reazione di Maillard. La reazione di Maillard è una delle reazioni più importanti che avvengono durante il processo di cottura degli alimenti. In questo laboratorio potrai verificare gli aromi che si sviluppano quando si fanno reagire gli amminoacidi con gli zuccheri. Per prima cosa procurarsi una piastra elettrica, sciroppo di mais puro, amminoacidi in capsule, una padella antiaderente, un cucchiaino. Procedimento. Versa un cucchiaino di sciroppo di mais nella padella antiaderente. Versa la polvere di amminoacido nella padella con lo sciroppo di mais. Sistema la padella sulla piastra elettrica. E accendi portando a temperatura elevata. Muovi la padella per miscelare bene il contenuto e riscalda fino a quando si liquefa. Senti un odore caratteristico mentre la miscela si riscalda. Noti più di un odore mentre la miscela continua a riscaldarsi. Di che colore è la miscela riscaldata? Prova a mescolare diversi amminoacidi insieme e verifica quali aromi si sviluppano. Spiegazione. Quando gli amminoacidi e gli zuccheri vengono riscaldati, interagiscono tra loro in un fenomeno noto come reazione di Maillard. Le molecole degli amminoacidi e degli zuccheri si combinano per formare nuovi aromi e sapori. La reazione di Maillard è anche responsabile del colore marrone dei cibi cotti. Normalmente l'imbrunimento si verifica a temperature molto elevate, ma se c'è un'alta concentrazione di zuccheri e amminoacidi, si verificherà anche a temperature più basse. La reazione di Maillard conferisce al pane tostato il suo sapore caratteristico, alla birra il suo colore distintivo. È sfruttata per la produzione di centinaia di aromi.